...di emozioni, a bordo campo per noi c'è Enzo Tamborra, Enzo buonasera. Sì, buonasera anche a voi, grande partecipazione durante il minuto di raccoglimento per ricordare Mimorenna perché Mimorenna era ancora molto presente insomma nella storia del Lecce, ha partecipato anche qualche tempo fa alla festa per i 30 anni della prima promozione in Serie A del Lecce, insomma uno che viveva molto la realtà giallorossa. Prima della partita intanto vi segnalo che il presidente dell'Ecce, Sticky Damiani, ha premiato con una maglia celebrativa il capitano Mancoso per le 100 presenze in maglia giallorossa. Traguardo tagliato nel match contro la Salernitana, fischietto tra le labbra per Baroni. Comincia la ventiduesima giornata, Lecce Ascoli. Subito un contrasto aereo con giocatore a terra e immediati soccorsi. E' caduto malissimo Scavone. Attenzione, richiamato immediatamente Medici. Medici. Sono un attimo di altissima tensione. Scavone ancora a terra. Sto aspettando un replay. Abbiamo visto attimi di grandissima apprezzazione da parte di tutti i calciatori, non soltanto del Lecce ma anche dell'Ascoli. Il contrasto aereo è caduto malissimo Scavone. Sembrava aver perso i sensi. Rivediamo. Colpo e poi non ha minimamente il controllo del corpo. E' un contrasto aereo. Credo che abbia ricevuto un colpo alla Tempia e poi successivo sul campo. Ecco qui. Il primo contrasto aereo. Ed è questo quello che fa malissimo. Grazie. Grazie.